ciao a tutti buon pomeriggio oggi faccio un video anzi direi una serie di video specifici poiché mi è stato chiesto di mostrare la mia linea per animali quindi tutta la linea atelier per cani allora io adesso con questo video parto partirò col mostrarvi le mie bandane per collare ne ho realizzate parecchie come potete anche ben vedere di varie misure di varie con varie taglie tutto queste le avevo realizzate appunto per i mercatini dello scorso agosto allora si tratta appunto di bandana e realizzate in vari tessuti questa è stata realizzata in taglia xs questa è in cotone con anche tutte le indicazioni con la composizione del tessuto e le istruzioni di lavaggio e tutto quanto le ho realizzate in taglia xxs poi in taglia s sempre con il suo coniglietto con il suo bottoncino a forma di con il coniglietto e poi l'ho fatta in xs e basta di questo modello qua così però poi sono stati realizzati anche vari modelli perché utilizzo anche vari tessuti tipo questo è in tessuto da mascatto questa ad esempio è in tessuto di cotone con gli angeli cotonina molto leggera questo è un acetato scusate ma questo invece è un acetato lucido molto molto bello mi piace da matti questo colore sono quasi tutti i pezzi unici nel senso che i pezzi che si vedono qui sono quelli disponibili poiché sono dei tessuti ricavati da dei campionari e io ho utilizzato appunto anche questo è in simile acetato in color verde questo invece è un cotone un po più grezzo a righe bianca azzurra molto bello l'ho realizzato a quadretti fa molto picnic questo qui poi c'è questo anido d'ape rosso sempre in cotone c'è questo qui con i cuori con i cuoricini e le varie etichette sempre in legno con l'etichettina handmade il cuoricino in legno questo invece è in lino con la sua bella etichettina handmade in legno pirografata stessa identica cosa su questa qua è sempre lino in scozzese questa è tessuto tipo damascato con ricami in rilievo con le cornucopie questo è in acetato è molto bello sono molto brillanti questi acetati qua sono molto molto brillanti questo è durato sempre in acetato brillante molto belli questi sono i modelli appunto delle bandane in fracollare ora andrò a realizzare un altro video e vi mostrerò altre creazioni sempre realizzate appunto per l'atelier per cani e gatti io intanto vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao